Un saluto a tutti i telespettatori di Cittaceleste TV e Cittaceleste.it La Lazio ha appena terminato la seduta mattutina di lavoro in questo quarto giorno di ritiro sotto le tre cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore perciò andiamo a vedere insieme cos'è successo I primi a scendere in campo sono stati i difensori Lavoro atletico agli ordini di Mr. Losi e sotto gli occhi di Sarri sempre attento nello studio delle caratteristiche dei suoi calciatori Archiviata la prima fase di lavoro sul campo adiacente si è passati su quello centrale con tanto di applausi dei tifosi presenti Due schieramenti difensivi ovviamente a quattro Prosegue il martellamento tattico per il reparto arretrato Dopo quest'ultimo è toccato invece a quello offensivo Centrocampisti e attaccanti in campo per nuove indicazioni stavolta per gli esterni alti in pressione sul recupero palla La seduta è terminata con una sfida ai tiri in porta vinta in ex equo da Cataldi e Raul Moro Appuntamento alle 17.45 per la seduta pomeridiana Intanto nella notte è arrivato anche uno dei nuovi acquisti ad Auronzo di Cadore Si tratta di Dimitri Kamenovic Il serbo è ufficialmente a disposizione di Sarri Stamattina lavoro in palestra per lui E sempre in ottica nuovi arrivi Nel primo pomeriggio sono previste le visite mediche di Felipe Anderson Mentre Luis Alberto sta cercando un volo privato per raggiungere la capitale Per Città Celeste TV Valerio Marcangeli